Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Nattasio. Sulla A1 in direzione Roma per lavori ci sono 6 km di coda tra Barberino e Calenzano. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili tra Montelupo ed Empoli Est, chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo un km di coda in direzione mare tra Ginestra ed Empoli Est e un km di coda in direzione Firenze tra Empoli ed Empoli Est. Nel traffico intenso ci sono code in uscita in direzione mare a La Strassigna, Santa Croce e Cascina. Rallentamenti tra La Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!